eccoci qua in questa bellissima foresta in questo bosco quasi incantato se non tutto incantato stiamo passeggiando stiamo camminando stiamo camminando in un bosco che per noi è un sistema di sistemi un sistema fatto di altri sistemi il bosco è un sistema gli alberi sono sistemi come la società e perché stiamo facendo questo video camminando perché per noi il viaggio il camminare il muoverci fisicamente dentro questi sistemi è la chiave del nostro approccio e la chiave della nostra metodologia di ricerca noi viaggiamo noi camminiamo andiamo fisicamente a osservare guardare cogliamo quali sono gli aspetti di novità poi sono le cose che funzionano intorno a noi e dopo trasformiamo tutto questo in modelli che sono un po la summa di quello che abbiamo trovato poi ovviamente ci sono i libri ovviamente c'è la ricerca teorica ovviamente c'è tutto il resto c'è il confronto col mondo accademico ma principalmente per noi ricercare è viaggiare ed è per questo che lo facciamo e continueremo a farlo a presto 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 Grazie.